Un pomeriggio intensivo, quello di ieri all'Istituto di Istruzione Superiore Cassata Gattapone. Nella stessa giornata, infatti, ben due gli appuntamenti che hanno coinvolto maestri e docenti. Ad inaugurarsi la prima lezione del corso rivolta alla formazione dei docenti neossunti, tenuti ad effettuare il periodo di formazione e prova, per cui il Cassata Gattapone è tra i cinque poli di riferimento in Umbria in cui vengono svolti gli incontri. La scuola, come spiegato dal dirigente scolastico David Naderi, è stata scelta come polo della formazione Ambito 1, comprendendo la zona Alto Tevere, Alto Chiascio, Gliassisi e Bassia, per un totale di 33 scuole di ogni ordine e grado. Sono 18 ore per tutti coloro che devono sostenere l'anno di prova all'interno dell'Ambito 1 e sono 115 partecipanti, ripeto, docenti, maestre e maestri di ogni ordine e grado, cominciano oggi con l'incontro propedeutico, seguono poi quattro moduli tematici di tre ore ciascuno e infine un incontro finale di restituzione per un totale di 18 ore. I docenti che invece hanno avuto la possibilità di partecipare alle cosiddette attività di visiting, cioè di sostituire i quattro moduli con incontri e visite presso scuole particolarmente avanzate, non saranno presenti agli incontri, diciamo, qui da noi. L'Istituto Cassata Gattapone è inoltre sede del corso Maestri e maestre, preparare il futuro, nutrire il presente, che punta al cuore di un lavoro delicato e responsabile come quello educativo. Il quarto incontro è stato tenuto da Pier Giorgio Giacchè, antropologo, docente universitario, scrittore e saggista, che ha dedicato una lezione di approfondimento alla religione dell'educazione di Aldo Capitini, filosofo, politico, poeta ed educatore perugino, tra i primi in Italia a teorizzare il pensiero non violento gandiano, e a cui, a Perugia, è stato intitolato l'Istituto Tecnico del Settore Economico. Ho pensato ad Aldo perché Aldo Capitini quest'anno compie 120 anni e siccome ogni anno è mia abitudine in qualche modo festeggiare il compleanno piuttosto che la morte, ho pensato che davanti a una platea di insegnanti era il momento più adatto, diciamo, per ricordarlo. Parole che sempre più spesso l'insegnante di oggi è portata a scegliere e calibrare bene di fronte ad una generazione in continuo cambiamento. Parole, come spiega Giacchè, indicate già da Capitini. Sono parole anche molto semplici, che lui adopera per esempio nel libro Il fanciullo, nella liberazione dell'uomo, e sono parole che vanno recuperate, perché sono parole, per esempio, gioia al posto di allegria, coro al posto di collettività, centro come questione di irradiazione, non come questione di concentrazione. E poi c'è una tantissima apertura, persuasione, a parte le classiche parole della non violenza, non menzogna, le parole, diciamo, di impegno, ci sono invece, c'è un vero dizionario di parole che andrebbero recuperate, rivagliate e forse riescono a trasmettere, a completare, diciamo, a fare da aggiunta, che forse è la prima parola interessante, proprio aggiunta, perché Capitini non amava polemizzare, amava aggiungere. E credo che questo per gli insegnanti di oggi possa essere un contributo, un bagaglio appresso, qualcosa da non dimenticare, perché secondo me le situazioni cambiano, dare delle ricette, dare dei metodi pedagogici, estrarre anche, non so, dalla Montessori, da Capitini, beh, non funziona mai. Invece tirare fuori delle parole, adoperarle nella propria esperienza di lavoro, allora questo può essere utile. se le parole invece che essere concetti diventano utensili.